benvenuti ad un nuovo appuntamento con il mio video blog oggi fusilli green vi faccio vedere com'è facile di preparare la pasta corta grazie allo Kenwood chef sense l'aiutante perfetto in cucina con la frusta cappa impasto la farina il sale le uova fino ad ottenere un impasto omogeneo vedete com'è semplice da fare grazie al movimento planetario con il food processor una delle attrezzature optional di Kenwood chef sense trito gli spinaci sbollentati li unisco all'impasto con il torchio e la trafile in bronzo preparo i fusilli ma posso anche fare altri formati di pasta ho scolato la pasta e ho impiattato con il sugo fresco di pomodoro ecco i miei fusilli green grazie alla dotazione e alle attrezzature optional potete anche voi liberare la vostra fantasia in cucina Kenwood chef sense assapora ogni momento